E' un fenomeno che lascia ancora increduli, nonostante in molti gridino al miracolo, quello che nelle ultime ore si è verificato in due località del Cosentino. Due statue, infatti, sono state viste lacrimare. Una, quella di San Francesco, situata nei pressi della chiesa di San Vito Martire e dello stadio San Vito, dove sono stati già avviati gli accertamenti da parte degli addetti ai lavori, mentre una folla di fedeli si è unita in preghiera. L'altra statue è quella della madonnina della villa comunale di Piane Crati. Dopo la madonna di Civitavecchia, che nel 1995 iniziò a versare lacrime di sangue, nel corso degli anni abbiamo assistito diversi pianti, alcuni smentiti subito dopo, altri invece che restano ancora oggi nel dubbio. Il fenomeno adesso pare si sia presentato anche ai fedeli della curia di Cosenza. Scetticismo e fede si accompagnano entrambi i fenomeni, mentre la diocesi non ha ancora preso una posizione ufficiale, in attesa che vengono effettuati gli accertamenti sulla natura di quelle gocce. L'annuncio ha richiamato quasi tutti gli abitanti in piazza per assistere al miracolo che si sarebbe ripetuto anche nei giorni successivi. E così è stata subito resta di fedeli davanti ai due luoghi interessati dallo strano accadimento. In centinaia, infatti, si sono riuniti in veglia di preghiera in un'atmosfera di profonda commozione. Ad accendere ancora di più l'entusiasmo è il fatto che la statua di San Francesco, dopo essere stata vista piangere lunedì notte, è stata asciugata e nel giro di qualche ora ecco rispuntare nuovamente le lacrime. Sui social il fenomeno ha preso piedi accompagnato da foto e video e rimbalzando da condivisione in condivisione è diventato quasi virale. Per il momento però la chiesa non si pronuncia.